Bentornati amici, un saluto da Luigi Duchi e oggi qua per parlarvi sempre del mondo della nomotica, il mondo di Home Assistant e oggi andremo a parlare anche del mondo Xiaomi. No, Xiaomi. Sì, in effetti mi hanno corretto più volte per la pronuncia del nome del noto brand cinese, toscanizzandolo abbastanza. Comunque il nome corretto pare essere Xiaomi. Oggi andremo a parlare di una loro piccola videocamera di sorveglianza con un sensore full HD che permette appunto la videosorveglianza del nostro appartamento mediante questo piccolo cubettino con all'interno una videocamera. Videocamera che può essere, diciamo, girata di 360 gradi e può essere posizionata sia in questa posizione che in questa posizione in quanto la staffa presente è calamitata e quindi può essere appoggiata così, attaccata così ad un supporto metallico. La particolarità di questo dispositivo è che ha, oltre alla videocamera, un altoparlante e un microfono che permette, mediante l'applicazione Mi Home, di ascoltare ciò che circonda la videocamera e anche di restituire un messaggio da remoto per parlare all'interno di questa videocamera e appunto far sentire la propria voce. La videocamera in questione funziona con i server appunto di Xiaomi, mediante l'applicazione Mi Home, quindi non è un vero e non avere protei di cam, ma funziona mediante il loro cloud, diciamo, il loro server esterno. Oggi noi andremo a vedere come andare ad intervenire sul firmware della videocamera di sorveglianza, modificandolo e permettendo invece di passare dal cloud Xiaomi di intercettare il flusso RTSP di questa videocamera e poterla integrare sia in Home Assistant ma anche in applicazioni che appunto vanno a leggere il flusso RTSP della videocamera. Per fare questa operazione necessiteremo di una piccola SD card. Io l'ho presa da 16 GB ma le altre che ho modificato mi è stata sufficiente un SD card da 2 GB ma pare che non ne producano praticamente più. Il taglio minimo sembra essere 8 GB che costa praticamente con una 16 GB. A quel punto sono andato ad acquistare una 16 GB. Vi sarà necessario anche l'accessorio che darà una dotazione con ogni telefono per estrarre la sim dal proprio telefono appunto che servirà per premere il pulsante Reset e vi servirà eventualmente questa applicazione per vedere il flusso RTSP. Ce ne sono tantissime, io ve ne ho consigliata una che poi è quella che utilizzo io sull'articolo sul blog di Vincenzo Caputo. Il firmware di questa videocamera, l'ultimo firmware di questa videocamera impedisce l'applicazione dell'hack. Quindi andremo prima di tutto a fare un downgrade del firmware. Lo faremo inserendo il firmware più vecchio all'interno della SD, caricheremo il firmware, vedremo dopo come, sulla videocamera di sorveglianza e successivamente sul vecchio firmware andremo ad installare l'hack per permettere l'intercettazione del flusso RTSP. Questa modifica è totalmente reversibile, infatti se noi spegniamo la videocamera estraiamo la SD al suo interno dove dentro ovviamente dopo vedremo ci sarà il nostro hack, la videocamera tornerà perfettamente a funzionare con Neom, sarà eventualmente necessario riaggiornare il firmware ma quello si può fare direttamente dall'applicazione se uno non volesse più utilizzare l'hack, ma appunto come vi dicevo è totalmente reversibile e non crea nessun danno alla videocamera. È come se fosse tutta la parte dell'hack sulla partizione esterna dell'SD e quindi non va ad intaccare il firmware ufficiale della videocamera. Purtroppo andremo a perdere la possibilità di parlare e quindi far sentire la nostra voce da remoto, ma invece terremo la possibilità di ascoltare ciò che avviene intorno alla videocamera mediante il flusso RTSP. Adesso andiamo a vedere tutte le varie operazioni da effettuare per trasformare la nostra camera in una camera RSTP, andremo ad inserirla dentro la nostra applicazione che vi ho menzionato prima e cercheremo di integrarla anche all'interno di Home Assistant mediante il programma Motion Eye. Questo programma praticamente permetterà di gestire tutte le videocamere all'interno del nostro Home Assistant, quindi non solo questa ma anche qualsiasi telecamera IT che abbiamo intenzione di gestire all'interno del nostro Home Assistant e sarà possibile anche settarne vari parametri, compreso la registrazione o la rilevazione di presenza da parte di una o più videocamere. Questa sarà una cosa che poi andremo ad affrontare magari in un articolo successivo, andremo ad inserirlo all'interno del nostro appartamento quando il nostro allarme è attivato potrebbero far scartare una sirena piuttosto che una notifica oppure qualsiasi altra cosa abbiamo intenzione di far attivare. Bene, richiamoci subito a vedere tutti i vari passaggi. Bene amici eccoci sul mio computer, ho appena inserito la SD card all'interno di un adattatore USB e quindi l'ho inserito sul mio Mac, è qua e come vedrete al suo interno non c'è assolutamente niente. Andrò a inserirci il downgrade del firmware, il firmware più vecchio al suo interno. Il link al vecchio firmware ve lo ho inserito all'interno della guida sul blog di Vincenzo Caputo. Quindi andremo a copiare il firmware all'interno della nostra SD, dopodiché potremo tranquillamente estrarla dal nostro computer e andremo ad inserirla all'interno della nostra videocamera di sorveglianza. Benissimo, adesso che abbiamo caricato il vecchio firmware sulla nostra SD che potete vedere qua, andremo a caricarlo all'interno della nostra XIAO Fang, insomma la nostra videocamera di sorveglianza. Per farlo sarà necessario inserire la SD all'interno dell'apposito slot che si trova sul retro della videocamera di sorveglianza. Ricordo che all'interno di questa SD abbiamo caricato il firmware, il file .bin che non è altro che il firmware più vecchio con la quale è possibile poi caricare di seguito l'AC. Andremo ad inserire appunto la SD e premeremo e premuto il pulsante Setup e sempre tenendolo premuto andremo ad alimentare la nostra videocamera di sorveglianza mediante un cavetto micro USB che vediamo. Ovviamente come tutte le USB del mondo quando provi ad inserirlo da un lato non è mai quello. Ok, continuiamo a tenere premuto per una circa una decina di secondi il nostro pulsante sul Setup al termine del quale non darà nessun segnale ma comunque andrà a caricare il firmware più vecchio sulla nostra fotocamera. Ce ne accorgeremo perché quando andremo ad accoppiarla nuovamente a Mi Home parlerà in inglese invece che la consueta voce cinese. Non so come mai Xiaomi ha scelto di ritrasformare la lingua in cinese piuttosto che in inglese come i firmware più vecchi. Quindi una scelta che non riuscirò mai a comprendere ma comunque questo è quanto. Dopo aver atteso circa 10 secondi possiamo lasciare il tasto Setup e non faremo altro che andare ad aggiungere nuovamente la nostra fotocamera all'applicazione Mi Home. Una volta che avrete caricato il vecchio firmware potrete aprire l'applicazione Mi Home e andate a premere con la graffetta il pulsante Setup. Come avete sentito la videocamera di sorveglianza parlerà in inglese, sta ad indicare appunto che il vecchio firmware è stato caricato. Infatti nei vecchi firmware la videocamera parlava in inglese, nei successivi non so come mai la voce è stata trasformata in cinese. Sull'applicazione Mi Home andate a premere il pulsante più in alto a destra, andrete a trovare appunto la vostra videocamera, cliccateci sopra e selezionate il vostro router premendo il pulsante avanti. L'applicazione mostrerà sullo schermo del telefono un codice QR che voi dovrete riprendere direttamente con la videocamera di sorveglianza fino al sentire del suono, della parola pronunciata dalla videocamera. Una volta che avrete ascoltato l'audio, la vostra videocamera inizierà a connettersi alla vostra rete Wi-Fi. Ci vorranno solamente qualche secondo prima che la nostra videocamera di sorveglianza sia nuovamente disponibile sull'applicazione Mi Home, ovviamente con il firmware più vecchio caricato. Ci vuole un attimo di attesa. Ecco qua, il dispositivo è aggiunto. Potrete ovviamente rinominarlo. Io nel mio caso l'ho rinominato cucina dato che la mia videocamera di sorveglianza andrà in cucina. Premete sul tasto OK una volta rinominato e sulla freccia indietro per salvare le modifiche. A questo punto, aprendo l'applicazione Mi Home, tornate sull'applicazione Mi Home e vedrete il vostro dispositivo disponibile. Premendo il pulsante in alto a destra vi darà la possibilità di aggiornare il firmware. Ovviamente non lo dovrete fare, in quanto abbiamo fatto tutto questo lavoro per caricare il vecchio firmware. Piuttosto premete su informazioni rete, in modo da poter reperire l'indirizzo IP assegnato alla vostra videocamera di sorveglianza. Vi consiglio assolutamente di prenotare l'indirizzo IP all'interno del vostro router, in modo che la videocamera conservi sempre il medesimo indirizzo IP. Questo indirizzo IP ci servirà sia per l'applicazione RTSP che per Motion High installato sul Raspberry. Vedremo come fare dopo. Una volta che avrete riaccoppiato la vostra videocamera di sorveglianza sull'applicazione Mi Home con il vecchio firmware, estrairete la SD all'interno della videocamera di sorveglianza e la inserirete nuovamente all'interno del vostro computer. Come vedete in questo caso è questa qua. Ne aprirete il contenuto e cancellerete tutto quello che c'è all'interno della SD. Benissimo, adesso in ambiente Mac andrete ad aprire l'applicazione Balena Hatcher, spero si pronunci così, e a un momento di apertura andrete ad inserire l'hack, che vi lascerò poi il link per il download all'interno dell'articolo. Andrete ad aprire appunto questa applicazione che vi permetterà di flashare l'immagine sulla vostra scheda SD. Infatti premeremo il pulsante Select Image, tengo in scrivania, Ak Xiaofang, Xiaofang, apri. Selezioneremo la nostra SD, che in questo caso è questa qua, e gli daremo il flash. Vediamo che sta finendo. Ed ecco pronta la nostra SD, che appunto ci dice che ha completato il nostro flash. Bene, adesso andiamo ad introdurla all'interno della nostra videocamera di sorveglianza e vedremo che cosa accadrà. Benissimo, eccoci qua nuovamente con la famosa SD ormai. Qui all'interno abbiamo flashato l'hack per la nostra videocamera di sorveglianza. Sempre con la videocamera alimentata e di conseguenza registrata su Mi Home, con il firmware caricato prima, il firmware più vecchio caricato prima, andiamo ad inserire la SD all'interno dello slot della nostra videocamera di sorveglianza. Attendiamo qualche secondo. Avete sentito questo suono? Sta ad indicare che il l'hack è stato caricato all'interno della nostra videocamera di sorveglianza. Adesso non ci rimane che prendere l'indirizzo IP che avevamo segnato per la nostra videocamera e andare all'indirizzo http.//ip della nostra videocamera di sorveglianza //cgi-bin//status Andiamo a vedere questo percorso all'interno del mio computer. Digitiamo direttamente questo percorso sul browser di ricerca sul mio computer e vediamo tutti i vari passaggi da effettuare per concludere con il nostro hack. Come vi dicevo, sono tornato nuovamente sul mio computer, ho aperto il browser e ho selezionato questo indirizzo che vi menzionavo prima, inserendo l'indirizzo IP assegnata alla mia videocamera di sorveglianza. Se premerete Enter, diciamo che se tutto è andato a buon fine, vi ritroverete in una schermata del genere. Quando vi chiederà di applicare l'hack, voi ovviamente premerete sul tasto Apply, Appli, come si dice, e lui restituirà praticamente tutta la procedura di hack completata. Premete sul tasto Back, a questo punto vi chiederà di espandere la partizione della SD inserita all'interno, voi ovviamente cliccherete su Yes. Questa operazione potrà variare, diciamo, di tempo in funzione della grandezza della SD. In questo caso è una 16 GB, non dovrebbe mettersi molto, attendete comunque all'incirca 5 minuti dopo aver dato il reboot. Infatti, come vedete qua, vi richiede il reboot per applicare il nuovo layout della partizione. Premiamo sul pulsante Reboot e attendiamo che il dispositivo si riavvita solo. Vi consiglio di attendere in circa 5 minuti e dopodiché potete premere nuovamente sul tasto Back e ritornerete alla schermata precedente. Benissimo, arrivati a questo momento, premete il pulsante Back. Vi potrebbe restituire un errore. Benissimo, dopo che avrete premuto il tasto Back vi troverete di fronte a questa schermata. Inserite il meno 2 al GMT per selezionare l'orario italiano. Qui potrete inserire il nome che più preferite per la vostra videocamera di sorveglianza. Successivamente premete sul tasto Set e attendete la risposta dal vostro dispositivo. Ok, ha selezionato sia l'orario che il nome. Premete sul Back. Andate su Manage Script. Controllate che i servizi siano tutti verdi se non fosse così riavviati i servizi. Ok, adesso sono tutti a posto. E a questo punto non vi rimane altro che andare a vedere il flusso RRSTP della vostra videocamera. Benissimo, adesso che il nostro hack è praticamente completo non ci resterà che andare sul nostro router per aprire la porta 554 sia interna che esterna con entrambi i protocolli TGP e WPP. Non ci resta che aprire l'applicazione WLC sul nostro PC o Mac o comunque, diciamo, su qualsiasi computer che avete in rete e scrivere il seguente indirizzo RTSP, due punti, slash, slash e il vostro indirizzo IP, slash, unicast come ad esempio vedete qua sotto un esempio riportato. Aprendo praticamente WLC lo troverete praticamente su in questo caso è un hack, quindi aprirete sul Windows mi pare che comunque è una cosa del genere inserirete appunto questo indirizzo e inizierete a vedere la vostra videocamera di sorveglianza. Ovviamente che cosa succede? Succede che con questa modalità avrete accesso alla vostra videocamera solamente durante la permanenza nella vostra rete interna. Per poterla vedere invece al di fuori della vostra rete ovviamente dovete utilizzare un DDNS DDNS che generalmente avete già configurato se ci avete seguito per l'utilizzo di Home Assistant potete quindi tranquillamente utilizzare lo stesso indirizzo vi consiglio sempre il famoso DAC DNS che è comunque completamente gratuito e per permettere di, diciamo, raggiungere le vostre videocamere dall'esterno dovrete inserire un indirizzo del genere rdsp.slash.slash il vostro account ddns.dacdns.org 2.554 che è la porta che avete aperto prima slash unicast Che cosa accade però se andiamo ad aggiungere più videocamere Xiaomi appierate o comunque altre tipologie di videocamere succede che il vostro ddns non capirà quale videocamera è appunto da raggiungere perché tutte quante faranno capo alla porta 554 per ovviare a questo problema creeremo delle regole sulle porte del nostro router andremo ad inserire sull'indirizzo IP le nostre camere di videosorveglianza praticamente andremo ad aprire la 554 internamente e poi andremo avanti ogni videocamera con la porta esterna invece di mettere 554 come la prima videocamera inseriremo ad esempio 555, 556, 557 e così a salire con l'aggiungersi delle videocamere di sorveglianza vi troverete praticamente una sorta di flussi indicizzati con le varie porte esterne che avete aperte che comunque faranno capo alla porta interna 554 questa è la mia prima videocamera come vedete ha 554 di porta la seconda è 555 che comunque è la porta esterna che poi punta alla porta interna 554 e così via per tutte le altre videocamere una volta che avete inserito tutte le videocamere e aperto tutte le porte esterne puntate verso la porta 554 interna avrete tutti i flussi necessari per inserirli all'interno della vostra applicazione la vostra applicazione è che come ad esempio in questo caso andiamo a vedere una delle mie videocamere passiamo il volume se no ho paura che con il microfono vada in contrasto ecco adesso purtroppo c'è la visione notturna non si vede benissimo perché ovviamente è il corredore della zona notte quindi è spento e comunque avrete modo di vedere tutte le vostre videocamere per vedere tutti i vari flussi RTSP io vi consiglio questa applicazione la stessa che utilizzo io la potete scaricare gratuitamente ovviamente c'è anche la versione a pagamento che ne preclude le pubblicità al suo interno ma comunque funziona perfettamente le pubblicità non sono assolutamente invasive quindi potete tranquillamente scaricare l'applicazione free diciamo che c'è anche la possibilità di integrare le nostre camme all'interno di Home Assistant ora il problema è che le camme su Home Assistant non sono gestite molto molto bene nel specifico di queste videocamere di sorveglianza appunto avranno un notevole ritardo e sarà non proprio fluida l'immagine che avremo all'interno del nostro Home Assistant comunque per fare questo sarà necessario scaricare un programma all'interno del nostro Raspberry chiamato Motion High ci sarà il relativo plugin anche per chi ha Assio e praticamente dovremo aprire il terminale e dovremo lanciare una serie di comandi che non vi sto ad elencare poi avrete modo di leggerlo all'interno della guida che ho redatto su www.vincenzocaputo.com una volta insomma riavviato il vostro dispositivo da qualsiasi computer di rete eviterei di farlo direttamente da Raspberry in quanto non riuscirebbe a gestire a livello di processore a livello di memoria il flusso di questo programma che è piuttosto forte piuttosto invasivo accedete tranquillamente da un qualsiasi computer in rete all'indirizzo http 2.8765 non sarà necessario ovviamente aprire questa porta di default potrete accedere al Motion High che è questo programma di gestione delle camere vi verrà richiesta la username e la password di default è admin e la password vuota una volta che sarete all'interno del programma potete ovviamente cambiare tutte queste caratteristiche e potrete aggiungere una videocamera vediamo un po' se riusciamo a farvelo vedere in diretta eccoci qua potrete aggiungere una videocamera queste sono quelle che per ora ho aggiunto dovrò continuare a modificarlo allora usciamo da qua per ora ho lasciato anche io l'account di default potrete aggiungere le altre semplicemente cliccando sul menu a tendina e cliccando su add camera selezionerete una network camera e qui inserirete il flusso video delle vostre videocamere il vostro ddns insomma è il flusso video che abbiamo visto precedentemente all'interno della guida che ho redatto vi verranno aggiunte in questa modalità come vedete anche su Motonai non è proprio fluidissima l'immagine per riportarla poi su Home Assistant non dovrete far altro che andare qui all'opzione video streaming qui ovviamente potrete selezionare i vari parametri di streaming sia il frame rate che la qualità dell'immagine vi basterà semplicemente premere sul canale streaming pool e questo sarà lo streaming che vi darà il vostro Motonai da inserire sul vostro Raspberry dovrete in seguito andare sul vostro Raspberry e nel file configuration.yam del vostro dispositivo del vostro Home Assistant andrete ad inserire questa stringa ffmpeg due punti senza aggiungere altro e poi andrete ad aggiungere anche questa stringa con scritto camera, due punti, spazio, punto esclamativo include camera.yaml e andrete a creare un nuovo file chiamato appunto camera.yaml alla stessa altezza del configuration.yaml all'interno di questo nuovo file chiamato appunto camera.yaml andrete ad inserire una stringa del genere dove l'input sarà l'indirizzo HTTP che vi ha restituito poco prima a Motonai salvate e ovviamente aggiungete tutte le videocamere che avrete inserito all'interno di Motonai e successivamente una volta salvato e riavviato l'interfaccia del vostro Master System vi troverete una cosa del genere vediamo un po' allora, vi troverete una cosa del genere allora, vediamo un po' ci vuole un po' a caricarlo la prima volta che l'apriamo ecco qua come vedete ci sono delle anteprime se cliccate sopra avete la possibilità anche se non in maniera fluida di vedere il video in questione come vedete non è fluidissimo invece noterete che sull'app RTSP che vi ho fatto scaricare prima l'immagine sarà molto molto fluida avrete anche la possibilità di sentire l'audio cosa che invece non è possibile mediante Home Assistant bene amici anche per questa guida è tutto siamo arrivati al termine spero di essere stato con un soldo abbastanza chiaro potete ovviamente lasciare un commento o sotto al video di YouTube o all'interno del nostro blog dentro il nostro articolo che ricordo essere all'indirizzo www.vincenzoca.com per qualsiasi domanda o chiarimento potete appunto contattarvi un saluto alla prossima a Grazie per la visione!